Buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi di 28 dicembre sui giornali di oggi. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto resta ancora il tema fondamentale della giornata, comunque della giornata politica, lo YouSoli, una di quelle demagogie che ancora non mi stanco di ricordare. Perché adesso ci sono dei parlamentari, peraltro molto seri, che godono della mia stima, pur essendo completamente diversa la mia idea rispetto alla loro. Penso a Luigi Manconi, penso a Cuperlo, un garantista verde e un ex comunista ancora innamorato del suo vecchio partito, Cuperlo, che dicono che prolungate la legislatura per due settimane in maniera tale che si voti questa legge. La legge, per fortuna che non si vota, nessuno sarà orfano della legge dello YouSoli, che è una legge pessima, soprattutto perché è pessimo il dibattito che è fatto. Il dibattito è incentrato un po' su quello che Polito aveva cercato di dire sul Corriere della Sera, cioè chiunque non è a favore dello YouSoli è un fascista. L'ha scritto un paio di settimane fa riguardo al ritorno del fascismo di cui parlava Repubblica. E questo cretino dell'Unicef, del portavoce, pensa un po' dell'Unicef, Giorgio Tocchi Aug, ho visto una foto stupenda con la famiglia, saluto. Allora, questo cretino del portavoce dell'Unicef, perché è una mancanza di intelligenza quella che fa a uno che scrive con l'account della sua istituzione, come se io facessi la zuppa di porro con l'account di Matrix, di Canale 5 o del giornale. Questo è il mio spazio di libertà, dove io dico quello che mi pare. E penso anche, come ben capite, che se uno dice che l'Italia non votando lo YouSoli rischia di essere fascista, questo ha detto il responsabile dell'Unicef, Beh, allora fatemi dire che quel portavoce dell'Unicef è lui un fascista e piuttosto ignorante. Comunque, grazie al cielo, questa legge inutile non passa, anche perché vi spiego una cosa molto semplice, che ieri hanno spiegato i giornali, soprattutto il giornale, quelli che sono contro YouSoli. In Italia, gli 800 mila famosi bambini che non avranno questo famoso diritto, oggi ne parla, chi è che ne parla oggi? Il diritto. Aspettate che ve lo leggo bene cosa dicono i giornali, soprattutto Repubblica. Dice Giannini, la più grande occasione della passata legislatura persa. Ieri diceva Repubblica, la fuga davanti ai diritti, avvenire i diritti degli 800 bambini, con questi bambini colorati che non avranno questi famosi diritti. Ma di che cacchio state parlando? Vanno a scuola, hanno la sanità e a 18 anni diventeranno italiani in maniera automatica. Automatica, chiaro. E anche quelli che non sono nati in Italia possono diventare in Italia dopo che sono stati in Italia per 10 anni e hanno i mezzi sufficienti per sostentarsi e non hanno precedenti penali. Qualcuno potrebbe dire, allora il diritto di quelli che hanno fatto un piccolo furtarello dopo 10 anni che vivono in Italia e c'erano un po' di soldi e quelli non hanno diritto a diventare italiani. No, non hanno diritto. Il diritto di diventare italiani non è un diritto che cade dal cielo, è un diritto che bisogna conquistare se non si è nati in Italia. Purtroppo è così in tutti i paesi del mondo e in Italia in automatico a 18 anni si diventa italiani. Quindi non smettiamola di dire che discutere su questa legge è una roba da fascisti o è una grande occasione perduta di questa legislatura. Mi sembra che siano tante altre occasioni perse in questa legislatura, cioè rendere migliori i diritti di stranieri italiani che vivono in questo paese con scarsi mezzi, scarso sostentamento, impossibilità di fare impresa, impossibilità di trovare un lavoro decente, perché semplicemente quelli sono diritti che i nostri giornalisti vorrebbero insieme a tutti gli altri. In realtà purtroppo la cosa non è così semplice. D'altronde viviamo in un mondo talmente assurdo che oggi io leggo sul Corriere della Sera che NBC, un network americano, ha fatto un codice di condottotta contro le molesti sessuali. Beh, insomma, si può fare l'abbraccio ma non deve essere fisico. Non si possono prendere i taxi insieme tra colleghi. Questi di NBC sono degli ipocriti di merda. Si parlava di Far West per dire una cosa che non funzionava in America. Secondo me si attribuisce il Far West al possesso delle armi, all'idea di avere una tutela della proprietà privata. Oggi si dovrebbe cognare un nuovo slogan che utilizzeremo, spero, fra 50 anni, come dato acquisito di cose negative. Il Far East, cioè le cose che si inventano, anzi il Close East, le cose che si inventano in New York debbono essere prese a calci nel culo. Come questa roba del codice di condotta delle molesti contro le molesti di New York per il quale non si può prendere l'ascensore, non si può prendere il taxi di un incollega e soprattutto non si può dare un abbraccio stretto, un abbraccio in cui ci sia contatto fisico perché il rischio è che ci siano molestie sessuali. E' evidente che questa è una cosa scritta dagli avvocati e non c'entra nulla con le molestie sessuali. A proposito di Close East, per dare il senso delle cose cretine che facciamo in questo mondo, diciamo, del politicamente corretto, nessuno dei dursisti, di quelli che se la prendono contro Barbara Dursa, se la prendono su una foto oggi, campeggio a tutti i primi giornali italiani, non solo. Il Principe Erri che intervista l'ex Presidente della Repubblica Obama. Tra le altre domande, se preferisce Rita Franklin, se preferisce The Queen, o La Queen, la sua regina, se preferisce falciare l'erba davanti alla Casa Bianca, o Buckingham Palace, domande fondamentali come quella di preferisce gli slip o i boxer, ovviamente è riuscito Obama a buttare un po' di fango su Trump. Ci sta, è legittimo, che è un Presidente della Repubblica che ha perso consensi perché ha lasciato il paese a Trump, poi dopo ne possa anche parlare male. Ma la cosa che mi diverte è che nessuno contesta il fatto che uno che non ha più nulla da dire e che non ha mai avuto nulla da dire come Principe Erri, che è carinissimo, straordinario, da chi, da gossip, da ola, da sposarsi, da foto, da uscirci, andarci a ballare insieme, quello che peraltro andava a ballare nudo e con la divisa del nazista, beh, io sono straordinariamente soddisfatto dell'idea che la BBC lo utilizzi come intervistatore per Obama e nessuno che alzi il dito e dica, scusatemi, ma di che state parlando? Ma non vi viene da ridere a vedere il Principe Erri che si toglie la divisa da nazista, si mette le camicie con le maniche rivoltate, intervista Obama per raccontarci che Trump è uno strozzo? Questo commento non lo farà nessuno come nessuno lo farà sul codice di NBC. Interessante Fubini, gli passa alla Banca d'Italia una carta molto semplice perché oggi verrà pubblicata sul sito della Banca d'Italia in cui dice che in Europa, non è una grande scoperta, ci sono 6.800 miliardi di titoli non chiari, non liquidi, non immediatamente vendibili che sono in pancia alle banche, per il 70% questi titoli liquidi sono le banche francesi e tedesche. È un mezzo comprensibile, giusto e che condivido di fare lobbying della Banca d'Italia che temo avrà poco successo per dire, guardate, voi state guardando i prestiti che noi abbiamo fatto nelle nostre imprese e che non ci riescono a restituire, ci fate un mazzo così, attenzione perché voi avete una quantità di titoli tossici che se solo una piccola percentuale di quei titoli tossici dovesse saltare, voi fallite in totale. La cosa è comprensibile, la prossima crisi finanziaria segnatevela sarà sul titoli tossici che non riguarderanno soltanto gli asset delle banche tedesche e francesi ma di tutto il mondo, ma in quel caso ovviamente lo Stato potrà intervenire perché la prima volta che c'è un casino lo Stato interviene, la seconda volta, cioè quando ci si raccorgono gli italiani, non si può più intervenire perché sono aiuti di Stato. Gentiloni oggi pomeriggio al Colle per rassegnare le sue, no, che rassegnare le sue dimissioni? In realtà lui continuerà a fare l'ordinaria amministrazione, si andrà a votare con grande probabilità il 4 marzo, interessanti oggi un po' tutti i giornali, secondo me perché hanno preso un comunicato, ieri non l'ho visto, di Open Politics, hanno detto che questa legislatura, i numeri di questa legislatura, 3 governi, 546 cambi di casacca dei parlamentari, una legge su tre è passata grazie alla fiducia, ma la cosa straordinaria è che questo governo ha fatto 354, questi governi, 3 governi hanno fatto 354 leggi pubblicate sulla gazzetta ufficiale e ci sono almeno 103 leggi, oltre a quella delle Jussoli che sembra l'incredibile legge non fatta ancora da discutere che non verranno discute, 300 di più decreti attuativi di leggi già approvate, cioè fanno le leggi e ponono il decreto, quindi le leggi sono di fatto ineleggibili, sostanzialmente non servono assolutamente a nulla. Intervista Di Maio oggi sul fatto ve lo consiglio, dice faremo trattativa per un governo quando finiranno le elezioni se non prenderemo il 40%, dice che triplicherà i seggi da 163 che ne hanno oggi a molti di più ed è probabile che sia così, visto il successo che i sondaggi riconoscono nel Movimento 5 Stelle, è molto interessante, dice sull'evasione e sulle imprese, mi sembra che abbia una posizione molto destra e molto liberale, Di Maio ha parole rispetto a quello che lui ha scritto, quando poi gli chiedi no tav, no tap, l'Italia dei no, lui dice con una battuta se la cava, battuta peraltro molto comprensibile, molto vera perché dice ma scusatemi ma in Puglia l'Ilva non la stanno facendo due signori dello stesso partito, della stessa sinistra non si mette d'accordo sull'Ilva, tra Emiliano, il PD di Renzi e Calenda. L'ultima cosa che vi dico è nella pagina delle lettere, straordinaria la lettera di un dipendente appunto dell'Ilva che dice comunque vada per Mittal sarà un affare perché se non fa l'affare con gli italiani muore l'Ilva e quindi per lui muore un concorrente, se fa l'affare farà un sacco di soldi perché l'ha pagata nulla, la cosa certa è che i Riva che avevano gestito, brutti e cattivi che avevano gestito questa azienda facevano soldi anche nella grande crisi dell'acciaio, mentre lo Stato, il Governo e i commissari hanno perso una barca e stiamo perdendo tutto il posto di lavoro per la loro incapacità di gestire un'impresa e grazie al cavolo dico io perché le imprese gestiscono gli imprenditori e i burocrati di Stato, i Calenda, i Passera, i Gentiloni, i Berlusconi, non solo loro a gestire aziende, le gestiscono gli imprenditori, brutti e cattivi comunque li gestiscono molto meglio di quanto ha dimostrato di fare lo Stato e comunque i magistrati nella loro follia hanno distrutto un pezzo dell'Italia produttiva. Ultima cosa che vi segnalo, ci sarebbero tante altre cosettine ma non facciamo in tempo a segnalarvele, l'unica cosa che vi segnalo, se avete ancora un po' di tempo, l'ho letto stamattina nel Giuditta's File di Daniele Capezzone, Brexit è uno di quei libri che vale la pena di leggere, fa una battuta contro Sky che pubblicizza il libro di Veltroni come se fosse un master, ma il libro di Daniele non viene pubblicizzato da nessuno. Allora anche io c'ho un po' di colpa perché non ho pubblicizzato ovviamente neanche quello di Veltroni, ma insomma i libri di televisione vanno quello che vanno, però penso che invece di lamentarsi troppo, cosa che comprensibilmente lui fa e ha ragione a fare perché Rai, Mediaset, Sky, siamo tutti quanti vittime dell'editoria politicamente corretta, sia contenti di questa rete, non solo della Zuppa di Porro, ma della grande rete di sostenitori che esistono ormai liberi da network che pensano a fare solo le marchette ai loro amici. Bene, io direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre a domani con la Zuppa di Porro, condividete, mi raccomando, se vi è piaciuta questa Zuppa e sito nicolaporro.it per gli aggiornamenti che sicuramente vi darò più tardi. Ciao!